Buonasera a tutti, un saluto a voi che siete a San Giovanni Rotondo, un saluto anche a chi ci sta seguendo in questo momento in televisione, su Padre Pio TV e anche sui vari canali social. Allora, con la tematica di oggi, il fioretto che vi volevo proporre è un fioretto che tende ad aiutare, che ha l'obiettivo di aiutare in casa, in famiglia, ma i miei genitori particolarmente. Mi sono reso conto di quanto sia difficile portare avanti una casa, di quante faccende ci siano da fare. Molto spesso quando si è piccolini ci viene detto ti do la paghetta se sistemi la stanza, se apparecchi la tavola, se butti la pattumiera. Quindi diciamo queste faccende ordinarie. Beh, ora sono diventato un po' più grande e sento che ci sia più bisogno di me in famiglia, che quindi io possa dare ancora di più una mano, non limitandomi magari a fare le cose più sciocche, tipo apparecchiare e buttare la pattumiera. Quindi il fioretto che vorrei fare e vorrei portare a termine è quello almeno per una settimana di riuscire a dare una mano ulteriore ai miei genitori, magari andando a fare la spesa, facendo faccende che loro magari non riescono a fare perché sono impegnati con il lavoro o stanno facendo altre faccende per la casa. Credo che questo possa essere un aiuto in più che do ai miei genitori, ma anche un motivo mio di crescita personale. Volevo condividere con voi insomma questo fioretto. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.